A sette anni dal terremoto, Radio Delta 1, l'emittente radiofonica di Enzo Galante, fondata nel 1977, torna ad avere una propria sede nel capoluogo di regione. In centro storico, in corso Federico II, a due passi da quello che una volta era il cinema più frequentato della città, Il Massimo. All'inaugurazione della radio, oltre a Galante e alla sua squadra di tecnici, speaker e giornalisti, hanno partecipato anche il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, la senatrice Stefania Pezzopane e il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. L'abbiamo fortemente voluto nel fine 2008, quando abbiamo preso questa sede. L'avevo ancora in precedenza, abbiamo avuto un rapporto con l'Aquila molto forte, perché è entrato a far parte del nostro gruppo una radio molto cara, gli Aquilani, abbiamo preso Radio Capital, che poi è diventata Radio Play Capital, quindi c'è un forte legame con il territorio. Adesso noi rinforzeremo questa cosa con una previsione di un bando per tutti coloro, che siano commercianti, artigiani, partite IVA, che rientreranno nel centro storico. Dall'Aquila noi daremo in regime del de minimis una quota, ci faremo carico dell'investimento. Io credo che questa sia un'operazione che riporterà il centro storico dell'Aquila ed essere uno dei più vivi d'Europa. Radio Delta, con i suoi 400.000 ascoltatori medi a settimana, è la radio più seguita in Abruzzo. Nata quasi 40 anni fa da Tessa, dove alla sua base operativa principale, pian piano si è allargata, aprendo anche le sede di Pescara e dell'Aquila. All'Aquila si tratta di un ritorno, accolto con entusiasmo anche dalla popolazione. Grazie. Grazie. Grazie.